ed è uguale perché lì sta franando giù vedi che è pericoloso se molla il colpo quando passiamo non posso più di lì devi scendere non si può di lì non è anche di qua dove scendere la questa qua è la panchina delle gem e dove si mettono a controllare no piano che ti scivola si gira sul cerchio e via dritto adesso ha preso l'acqua è normale no appena si asciuga poi lì ti prende santa su santa su santa su santa su edite basta lei si è bagnato per quello dai la ruggiamo su vai su tu luca che poi la ruggiamo che devi fare per forza eh ragazzo mio non c'è un'altra alternativa prova avanti un pezzo a vedere no niente si è bagnato per quello devo fare come faccio col falco se la puoi anche spegnere che tanto guarda dai io dovevo fare le dannazioni oggi le ho fatte dai io lo sto al fatto e anche oggi abbiamo dato due quasi e tanto non gli fa niente perché bravo superen internship ma noi spavano e poi ogni stanza e non c'è te l'ho ma si sta a monte no a valle devi stare a monte devi stare a monte no a valle vi siete scaldati ma questa è facile che succede se le tieni nel torrente troppo basse la prima volta che la morsi più un pochino ti fa quel verso qua ti si sta allora sono stupide così eh si schiaccia e ti capotti dentro nella diga io ti do un colpo ancora e vai un colpo sto come dice quell'altro ale vai vai sto cazzo vai e però gira forte al cerchio dai che ci siamo dai su vado vado o mi appoggio alla pedivella però è meglio quella di qua aspetta così e questo cavolo si incastra e basta figaro per usare da dietro e questo tipo e questo tipo è un po' è un po' di qua è un po' di qua rinascondo su il po' di qua la civiltà da adesso puoi fare il sassone così perché prende tutto ad un colpo come dall'elettrica no ma che bella sciarpetta che c'è di sta strozzata è anche filmato bravo giusto che sia così perché ho fatto più fatica a qualche abbronzone o giro avventura breve ma intenso potessi aspettare pesante possiamo spegnere ma sei qua va bene ma fa il cuore e quanto succede dentro che è un cinema e ma la cinghia